Avvocato Amelia Polizzi, difensore della parte civile della signora Laura Di Salvo. Prego, può stare seduto al suo ruolo. Rosario Di Salvo era un fedele militante del Partito Comunista Italiano. Il suo lavoro ed il suo impegno di scritto e di attivista erano concentrati all'inizio degli anni Ottanta nella struttura del Partito, a Palermo presso la Federazione Regionale di Corso Carattafini. Negli ultimi mesi del 1981 e nei primi del 1982, il suo compito e la sua attività avevano una finalizzazione, quella di accompagnare, tutelare, quasi proteggere, il segretario regionale del Partito, l'onorevole Pio Latorre. Non nel senso di un uomo di scorta, poiché tale Di Salvo non era mai stato, né lo era diventato in quei mesi terribili in cui Palermo era aggredita come non mai dal fenomeno criminale mafioso, ma nella rappresentazione concreta di una vicinanza e di una protezione, che solo l'amicizia ed il rispetto devoto nei confronti di Latorre potevano determinare. Rosario Di Salvo, in questo compito di autista occasionale, di accompagnatore costante, di ombra discreta ma allo stesso tempo non assente, per sua scelta era stato costretto nei giorni di permanenza del parlamentare a Palermo a sacrificare gli affetti della famiglia e gli impegni legati alle sue responsabilità di padre. Infatti, Pio Latorre, pur mantenendo la carica di parlamentare nazionale, era ritornato in Sicilia dopo tanti anni di assenza politica e partitica, proprio dietro diretta sollecitazione di Enrico Berlinguer. Il suo tornare come segretario regionale del Partito Comunista Italiano, nella carica che aveva rivestito quasi vent'anni prima, aveva indubbiamente determinato una svolta nella stagnante politica siciliana. Il suo passato di vecchio sindacalista, di capo della Camera del Lavoro di Palermo, la grande carica ideale e passionale che lo aveva portato giovanissimo all'occupazione delle terre in Sicilia, il suo impegno quale responsabile nazionale della sezione agraria del Partito Comunista, la sua antica battaglia negli anni Sessanta quale segretario regionale del Partito per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, le sue lotte per la pace, erano i punti di riferimento che consentivano di ritenere che il suo ritorno in Sicilia, nella veste di capo dell'opposizione al governo della regione siciliana, fosse veramente un momento di svolta e di cambiamento nella politica siciliana dei primi anni Ottanta. La Torre aveva già da deputato nazionale, nel 1980, presentato una proposta di legge volta, da una parte a tipizzare normativamente il reato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, l'articolo 416 bis del Codice Penale, e dall'altra ad inserire nella legislazione antimafia delle misure di prevenzione criminale l'ipotesi di confisca da parte dello Stato del patrimonio illecitamente formatosi in seguito all'adesione e alla partecipazione al suo delizio mafioso. Una vera e propria rivoluzione legislativa in materia penale. Intaccare e colpire i beni della mafia nel loro dato di provenienza illecita è determinare una forte risposta dello Stato nella lotta a Cosa Nostra, con la condanna appena elevate per i promotori e gli aderenti alle organizzazioni criminali mafiose. La proposta di legge La Torre aveva in sede parlamentare incontrato resistenze e riserve da parte di diverse forze politiche, ma con la tenacia e con la sua forte coerenza politica e morale La Torre aveva costruito su questa proposta di legge un momento di incontro, di alleanze e di rivolta civile all'interno della migliore classe politica siciliana. Cosa Nostra però individuò subito nelle idee di La Torre a un pericolo mortale e decise di intervenire nell'immediato per tagliare alla radice con la morte del parlamentare ogni possibilità di realizzazione normativa di quelle che erano nelle sue valutazioni idee forza o ipotesi di lavoro politiche temibilissime. La proposta di legge La Torre contro la mafia, la cosiddetta legge La Torre e Rognoni, approvata poi come legge dallo Stato pochi giorni dopo la morte del prefetto dalla Chiesa e quattro mesi dopo la morte dello stesso La Torre, andava nell'ottica politica ed operativa di Cosa Nostra subito bloccata con la morte violenta del suo proponente. Ecco perché Rosario Di Salvo sentiva fortemente che il suo compito di assistenza costante e di presenza discreta nei confronti dell'Onorevole La Torre dovesse avere in quei momenti terribili di impegno politico una precedenza di natura speciale rispetto alla vita di tutti i giorni di dipendente e di attivista del Partito Comunista Italiano. Come si ricorderà infatti ai funerali, Di Salvo aveva lasciato da qualche anno il lavoro nell'apparato del Partito, dedicandosi con successo all'attività di ragioniere in una cooperativa. Questo lavoro gli consentiva di far fronte un po' meglio alle necessità della famiglia, la moglie e tre bambine. Ma quando La Torre rientrò a Palermo, come sottolineerà Berlinguerne l'orazione funebre, ben sapendo che si trattava di un posto di lotte e di lavoro pieno di difficoltà e di pericoli, abbandonò la sua occupazione e chiese di tornare a fare l'autista per il segretario regionale. «Guadagnerò di meno», disse, «ma questa è la mia vita. mia moglie ora fa dei ricami in casa. Ce la faremo lo stesso». «Ecco chi era Di Salvo», dirà Berlinguerne, un compagno mosso da una profonda e irresistibile passione politica e da uno spirito di assoluta fedeltà al Partito. Solo adesso, grazie alla confessione del pentito Salvatore Cucuzza, che ha rivelato di essere stato il killer di La Torre e di Di Salvo, si conoscono i nomi dei criminali che consumarono il terribile delitto. Il commando degli assassini era composto, oltre che da Cucuzza, da Pino Greco, Nino Madonia, Giuseppe Lucchese, Giuseppe Galato, Mario Presti Filippo. Già era intervenuta la condanna all'ergastolo dei mandanti dell'omicidio nelle persone dei componenti la commissione centrale di Cosa Nostra dell'epoca, Michele Greco, Salvatore Rina, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca e Francesco Madonia. Il processo che oggi ci impegna ha confermato totalmente l'impostazione accusatoria e ha dato riscontro di prova specifica a quanto il collaboratore pentito Cucuzza, con la conferma operata successivamente da Marino Mannoia, ha ricostruito nel dettaglio sul punto in esame. Non restano margini di ragionevole dubbi in ordine alla responsabilità penale degli imputati Madonia e Lucchese. La morte di Rosario Di Salvo, amico, accompagnatore, ombra affettuosa e silenziosa di Piola Torre, con lui legato in una tragica e dolorosa fine, ha trovato in questo processo una risposta in relazione al perché fu voluta, da chi fu ideata e da quanti e come venne seguita. La difesa della parte civile Laura Di Salvo conclude con incomparsa, depositando anche nota spese. Per l'interesse della parte civile Sabrina Di Salvo. Io intervengo in difesa di una delle figlie di Rosario Di Salvo e chiaramente il ruolo che abbiamo cercato di svolgere innanzi a questa Corte durante questi anni in cui si è celebrato questo processo ci impone di formulare alcune brevi riflessioni perché è chiaro che il lavoro che è stato svolto dal Pubblico Ministero davanti a voi ci ha notevolmente alleviato il compito che ognuno di noi nel momento in cui ha deciso di avere l'onore di accettare e di difendere le figlie di Rosario Di Salvo innanzi a questa Corte quando chiedevano di costituirsi parte civile e assunto nei confronti prima di tutto delle stesse figlie di Di Salvo e poi soprattutto nei confronti di questa Corte. Dicevo, essendo stata coinvolta in tutto questo processo viene quasi la tentazione di chiedersi cosa significa fare politica in Sicilia cosa significa oggi fare politica cosa significava allora per un uomo come Piola Torre farlo e questa riflessione non può che avere una risposta la risposta è che chiunque non abbia fatto tutto quello che Piola Torre ha fatto in quegli anni chiunque non si sia reso responsabile di una quotidiana lotta nei confronti di tutto quello che poteva rappresentare un ostacolo a uno sviluppo del nostro Paese improntato a criteri di legalità, di trasparenza, di correttezza, di assenza di tutte quelle che erano le connivenze con sistemi politici e politico-mafiosi che comunque distogliessero la cosa pubblica da quello che era la tutela di interessi del cittadino e del Paese chiunque non faccia tutto quello che la Torre ha fatto in quegli anni probabilmente dovrebbe ben leggere la vita di Piola Torre in quegli anni dovrebbe ben leggere tutti gli scritti, i documenti, gli interventi gli articoli che sono stati pubblicati sull'impulso di Piola Torre in quegli anni nei giornali quotidiani, l'Ore, il giornale di Sicilia e quanti altri documenti hanno sostanzialmente dimostrato il suo impegno politico e l'assenza di ogni paura non nel formulare i teoremi di carattere generale non nell'indicare in generale che esistessero in Sicilia, al comune di Palermo all'assemblea regionale, alla regione, in generale, dei collegamenti con la mafia ma facendo nomi e cognomi dicendo chi erano, secondo Piola Torre, i politici che erano conniventi dicendo, secondo Piola Torre, ma avendo alla mano documenti portando elementi di prova, elementi di fatto che dessero sostegno a quanto lo stesso Piola Torre è scritto, urlato nei comizi e nei convegni le imprese, i soggetti favoriti in Sicilia e sono dei nomi che noi tutti i siciliani conosciamo bene perché sono dei nomi che hanno in quegli anni creato le fila di un potere economico che si è solidificato che si è stratificato, che ha messo radici proprio in quegli anni grazie agli appoggi dei politici che di certo il loro dovere non facevano è un caso, e sembra strano che un uomo come Piola Torre sia nato proprio ad Altarello di Baita centro del potere mafioso allora guidato da uomini come bontade da uomini della cosiddetta vecchia mafia che nel momento in cui la Torre venne ucciso avevano un po' segnato la loro fine la loro decadenza per lo strapotere dei Corleonesi l'omicidio di Piola Torre e di Rosario di Salvo è un omicidio che si inquadra dal punto di vista storico nell'ambito di un momento in cui appunto è appena finita la cosiddetta seconda guerra di mafia che ha segnato l'ascesa del gruppo Corleonese ai danni della mafia guidata da Inserillo da bontade, da paderamenti, da ricco buono da uomini che a partire dall'aprile dell'82 poi fino al 30 novembre dell'82 furono barbaramente uccisi, esterminati da questo punto di vista il momento storico in cui avviene questo omicidio ci porta a riflettere su quello che è stata la volontà di Cosa Nostra nell'eliminare uomini delle istituzioni e in particolare a Rosario di Salvo e Piola Torre è un momento in cui i corleonesi hanno necessità di affermare il loro potere per dimostrare in primo luogo a se stessi ma sicuramente a tutti coloro che dipendono da Cosa Nostra sono uomini delle fie di Cosa Nostra che i corleonesi intendono affrontare la lotta nei confronti dello Stato in modo assolutamente diverso rispetto a come era stato fatto dalla vecchia mafia lottando, opponendosi alle istituzioni chiedono lo scontro e lo scontro c'è in quegli anni perché se noi pensiamo dal 79 chiedo scusa dal 79 all'80 all'82 all'83 all'85 all'87 sono tutti anni in cui cadono uomini delle istituzioni come Costa come Boris Giuliano come Chignici come Piola Torre e Rosario di Salvo come il dottore Cassarà come il generale della Chiesa sono tutti uomini e sono tutti omicidi che hanno dietro un filo comune non è un caso che questi uomini siano caduti probabilmente da cittadini abbiamo una tristezza nel pensare che questi uomini siano caduti solo perché hanno cercato di fare quello che era il loro dovere perché chiaramente si pensa e allora tutti gli altri che fanno tutti gli altri che stanno facendo e che hanno fatto io stessa avendo l'onore di essere una parte di questo processo ho avuto il piacere di approfondire quelle che erano le mie conoscenze su Piola Torre ma vi giuro signor Presidente e signori giudici signor giudice Alater che non avevo idea in concreto quale fosse stata l'opera continua pressante incessante di Piola Torre in quegli anni dicevo nasce dal Trello di Baida fin dall'inizio comincia a essere parlativa proprio in quelle zone addirittura viene quasi allontanato da casa da suo padre perché in quelle zone dal Trello di Baida avevano creato in pochissimo tempo tre sezioni di partito e sicuramente il partito comunista per quello che erano gli ideali politici per quello che erano le campagne le lotte i progressi i progetti del partito in quel momento si prefiggeva era un partito che di certo alla mafia non faceva comodo diventa segretario regionale dopo ma all'inizio fa parte della Camera del Lavoro a Corleone dopo l'omicidio di Placido Rizzotto è un momento importante nella vita di La Torre è un momento importante perché già da quegli anni siamo nel 1948 che La Torre comincia a conoscere ma perché sul campo a Corleone quelli che erano i suoi i suoi avversari siamo a Corleone siamo nel nel fulcro del potere mafioso e quello che diventerà poi il regno di Totorrina ed è una conoscenza che Piola Torre approfondirà negli anni facendo occupando le terre lasciate incolte negli anni 50 essendo arrestato per questo fatto perché viene arrestato viene ristretto in carcere per ben un anno e mezzo per lottare per portare avanti quelli che sono i suoi principi di lotta quello che è il potere dei latifondi in Sicilia per far sì che gli interessi della gente dei contadini di coloro che erano in generale le persone meno abbienti del nostro paese potessero essere in qualche modo tutelate ed è una lotta ripeto che inizia in quel momento e Piola Torre poi conoscerà e saprà come combattere la mafia perché perché l'avrà conosciuta dall'interno l'avrà conosciuta con gli uomini saprà chi sono i suoi avversari sa fin da allora e conosce cosa sono in condizione di fare e soprattutto saprà cosa c'è bisogno per sconfiggere la mafia sono degli anni bui sicuramente perché Piola Torre facendo questa tra virgolette ascesa politica ma di certo di ascesa di un momento di Piola Torre non si può parlare comincia e continua a pestare quelli che sono gli interessi principi di quello sviluppo economico palermitano e delle province palermitane e di certo in quegli anni è importantissimo comprendere e Piola Torre lo comprende per primo che per lottare contro la mafia occorre lottare contro quelli che sono gli interessi economici basta pensare ai suoi interventi da deputato all'Ars i suoi interventi quale segretario regionale e nazionale del partito comunista perché si rende conto che in primo luogo per esempio la legge sui appalti in Sicilia è una legge che non tiene conto di quelli che sono gli interessi mafiosi e le connivenze politico-mafiose non tiene conto del fatto che per sconfiggere questo tipo di interessi e di connivenza è necessario agire dall'interno proponendo delle modifiche legislative improntate a criteri di lealtà e di trasparenza si rende conto che in quegli anni i rapporti che esistono all'interno del Consiglio Comunale con le imprese più famose in Sicilia di allora Lavaselli Cassina Trezza tutte quelle aziende che imprese che continuano a dominare quello che è il panorama economico palermitario siciliano sono tutte delle cose che oggi probabilmente a più di vent'anni di distanza al momento in cui fu ucciso probabilmente sono tutti fatti ed elementi scontati di certo allora non conosco altro uomo che abbia portato avanti questo progetto con questa forza facendo nomi e cognomi continuamente facendo interventi pubblicizzando non soltanto all'interno di quello che era il Consiglio Comunale ma andando in televisione andando a tribuna politica continuamente chiedendo la pubblicazione di articoli sul giornale di Sicilia sull'ora su tanti quotidiani in cui si pubblicizzava quello che era il suo disegno politico si pubblicizzava quello che era il suo intento si metteva nero su bianco quali erano i soggetti politici che lui avversava ma perché vedeva esclusivamente questi stessi soggetti il punto nevralgico dei collegamenti della politica con la mafia e l'ho fatto con una serietà con una costanza direi quasi unica nella nostra storia politica Rosario Di Salvo è emerso dagli atti di questo procedimento non era un autista Piolo Torre l'aveva voluto accanto a sé perché solo dall'accompagnamento di Rosario Di Salvo si sentiva garantito in modo adeguato Rosario Di Salvo ci hanno detto tutti coloro che sono stati sentiti nel corso del dibattimento a cominciare dall'onorevole Mannino che ci ha detto che era un soggetto che dal punto di vista politico interveniva commentava che era tra virgolette questo uno spreco utilizzarlo solo come autista perché in effetti avrebbe dovuto essere coinvolto nelle file dirigenziali del partito Rosario Di Salvo è colui che si accorge pochi mesi prima del delitto di Piola Torre che c'era un pericolo che il pericolo si stava sviluppando abbiamo acquisito le dichiarazioni della moglie Casanova Rosa che ci testimoniano il fatto che nei giorni precedenti di omicidio c'erano delle continue telefonate che in qualche modo volevano probabilmente accertare l'orario in cui Rosario Di Salvo usciva giornalmente da casa per recarsi a casa di Piola Torre per andarlo a prendere e iniziare la lotta quotidiana per perseguire tutti gli obiettivi che Piola Torre si prefiggeva Rosario Di Salvo è l'obiettivo in uno a Piola Torre di quell'omicidio questo emerge anche dalle dichiarazioni di Cupuzza che ci ha riferito espressamente che sentite dire a Madonia andiamo a fare quei due non è un caso che muore è un soggetto che Cosa Nostra sapeva perfettamente che sarebbe stato a quell'ora in quel giorno in quella macchina che avrebbe accompagnato lui Rosario Di Salvo e Rosario Di Salvo è colui che ha la prontezza di reagire ce l'ha detto per prima Cupuzza nel momento in cui lo vede muovere quindi chiaramente accede alla sua morte perché in quel momento sta reagendo sono le dichiarazioni rese innanzi a questa corte da Cupuzza e quindi chiaramente Rosario Di Salvo è tra virgolette tragico protagonista insieme a Piola Torre di quello che è stato il tragico omicidio dell'aprile dell'82 Nino Calega che abbiamo sentito innanzi a questa corte ci ha detto altresì che addirittura la fedele osservanza da parte di Rosario Di Salvo di quello che era il suo compito ma di quello che lui sentiva come il suo compito cioè il fatto di accompagnare essere vicino a Piola Torre in questa sua attività costante e incessante di intervento nei comizi nei paesi nelle varie sezioni di partito ci dice una cosa addirittura pochi giorni prima dell'omicidio in occasione di un convegno presso la sembra un caso a San Lorenzo in un quartiere molto vicino o comunque confinante col quartiere Resultana in cui il potere dei Madonia era assolutamente unico ed esclusivo pochi giorni prima del suo omicidio Rosario Di Salvo è colui che avvisa Piola Torre e gli dice stiamo attenti perché sei stato avvicinato dalle persone che a me non mi piacciono Rosario Di Salvo non è un autista ce l'ha detto Bacchi l'onorevole Bacchi ce l'ha detto l'onorevole Magnino ce l'ha detto l'onorevole Parisi era un soggetto che aveva preso questo impegno come un impegno fondamentale della sua vita sapeva perfettamente di poter essere vicino un uomo importante leale forte come Piola Torre chiaramente per quello che poteva e cioè accompagnandolo essendogli vicino commentando tutelandolo per quanto era possibile anche alla fine prendendo il portodarno per cercare di proteggere quello che era il suo punto di riferimento umano e politico fino all'ultimo la sua partecipazione a tutte le attività che Piola Torre aveva svolto in quegli anni è emersa nel corso del dibattimento è chiaro è risulta evidente lo abbiamo addirittura chiesto a molti testi che sono stati sentiti innanzi a questa corte che era l'unico punto di riferimento familiare l'unica fonte di reddito di una moglie e tre bambine molto piccole la mia assistita Sabrina di Salvo era nata nel 1973 nell'82 non aveva neanche compiuto nove anni ed era la seconda delle tre figlie di Rosario di Salvo è una morte che ha segnato tragicamente il destino di questa famiglia è una morte che di certo anche fino all'ultima è stata affrontata con la dignità che ha portato la figlia di Salvo a costituirsi in modo assolutamente integrale a fare muro comune nei confronti di coloro che sono oggi imputati innanzi a voi dell'omicidio sia di Piola Torre che di Rosario di Salvo la scelta di costituirsi una parte civile è una scelta coraggiosa è una scelta che richiede un impegno civico una serietà una fiducia nei confronti dei poteri dello Stato soprattutto in ordine a quella che è la richiesta principale che noi oggi abbiamo da fare innanzi a questa Corte noi chiaramente chiederemo all'esito delle nostre discussioni complessive che gli imputati siano condannati perché è emerso con assoluta evidenza la prova della responsabilità degli imputati è emersa la luce delle dichiarazioni di Pucuzza Salvatore che è un chiamante in correità e non in reità i giudici togati vi spiegheranno e l'avranno già fatto qual è la differenza da giuridica anche a luce di quelli sono i principi che sono stati dettati dalla giurisprudenza della Suprema Corte Cucuzza Salvatore è un soggetto che chiama in corretà i suoi correi quelli che erano con lui in quel momento non è un soggetto che riferisce in ordine a un fatto di omicidio che è avvenuto non in sua presenza è un soggetto che rende una chiamata particolarmente qualificata perché lì partecipa a tutte le fasi ideative organizzative di programmazione poi esecutive e anche post delictum di quel omicidio commesso nel 30 aprile dell'82 la sua chiamata in corretà è stata riscontrata a bestrinseco ex articolo 192 che è l'articolo del nostro codice che disciplina quali sono i criteri di valutazione della prova i giudici nella Camera delle vostre deliberazioni togati ve lo spiegheranno ve l'hanno già spiegato di certo molto meglio di me gli altri elementi di prova che confermano l'attendibilità della chiamata in corretà effettuata sono innumerevoli sono molto di più che elementi di prova addirittura sono prova autonoma lì dove io considero e faccio riferimento alle dichiarazioni di Marino Mannoia le dichiarazioni di Marino Mannoia e le dichiarazioni di Mutolo hanno riscontrato dall'esterno da un punto di vista individualizzante cioè con riferimento specifico non soltanto al fatto e cioè che il 30 aprile 82 fu commesso quel fatto fu commesso con quelle modalità fu commesso da quel gruppo di fuoco ma dal punto di vista specifico della singola partecipazione di Madonia e Lucchese all'agguato che fu fatto la mattina del 30 aprile dell'82 la dichiarazione del relato che ci formula Marino Mannoia secondo quello che è l'orientamento costante in maggiorità della giurispenza della Supra Corte è una dichiarazione che abbestrizza che è in grado perfettamente di riscontrare la chiamata in corretà così particolareggiata così attendibile coerente logica concreta sto elencando quelli che sono tutti i criteri che la Cassazione ci ha detto essere indispensabili perché la chiamata in corretà possa essere creduta possa essere valutata in termini positivi le dichiarazioni di Marino Mannoia le dichiarazioni di Mutola ma poi tutto il contesto storico il contesto storico storico mafioso che ci è stato descritto da tutti i collaboratori che sono stati sentiti nel corso di questo dibattimento Brusca Giovanni Anziano Francesco Pao Ben Cicalogero Ferrante Onorato tutti hanno descritto in modo unanime l'esistenza nel 1982 di un gruppo di fuoco della cosiddetta commissione di Cosa Nostra c'è un gruppo di uomini particolarmente allenati abili capaci in grado di affrontare le imprese delituose più gravi più efferate più delicate da un punto di vista non soltanto di lotta dalle istituzioni ma anche da un punto di vista di lotta all'interno quello scontro dicevo che è avvenuto nel 1982 tra le due opposte fazioni di Cosa Nostra ci sono numerose sentenze che sono passate in giudicato che dimostrano che effettivamente questi uomini Madonia Lucchese Cucuzza Gancio Anselmo Pino Greco Scarpa Marchese si resero responsabili in quel periodo di moltissimi efferati delitti commessi nei confronti di uomini nelle istituzioni avete sentito parlare della strage in danno del dottore Chinnice avete sentito parlare della strage di via Croce Rossa avete sentito parlare di tutti i delitti che si sviluppano secondo un contesto unico analogo e cioè partenza dal fondo Pipitone sviluppo secondo determinate modalità individuate indicate da uomini particolarmente abili capaci in grado di progettare nei dettagli tutti quelli che erano le caratteristiche dell'omicidio Madonia Antonino Madonia Antonino è un soggetto che si è reso responsabile di numerosi fatti delittuosi e soprattutto di numerose preparazioni con queste caratteristiche abbiamo anche la strage della cosiddetta circonvallazione ne abbiamo parlato tantissimo che è proprio un fatto delittuoso che avviene in quegli anni non ai danni di un uomo delle istituzioni ma si sviluppa secondo modalità assolutamente analoge con l'utilizzo di mitragliette con l'utilizzo di fucili Thompson con l'utilizzo di autovetture che bloccano altre autovetture e di motociclette che arrivano per completare o per iniziare l'azione delittuosa sono tutti fatti sentenze dicevo non fatti non dichiarazioni di collaboratori ma provvedimenti giurisdizionali che sono stati accertati e oggi hanno autorità di cosa giudicate quindi voi ve ne potete servire per fondare il vostro convincimento vi hanno indicato e individuato quello che era il contesto storico di riferimento ma ripeto a prescindere da quello che è un contesto storico esistono le chiamate in corretà esistono i riscontri individualizzati esistono Cucuzza Marino Mannoia e Mutolo che consentiranno voi di condannare Ioderni Putachi quindi alla luce di queste considerazioni e chiaramente richiamando per intero quelle che sono state le considerazioni del pubblico ministerio quello che è uno sforzo e chiaramente siamo tante le parti civili di evitare un appesantimento nell'escussione di ognuno di noi si potrebbe parlare ora e ora di Piola Torre con ammirazione con piacere con nostalgia rispetto a una classe politica che sembra assolutamente tramontata quindi io alla luce di queste considerazioni chiedo mi associo a quella che è la richiesta del pubblico ministero di condanna degli imputati in ordine al duplice omicidio commesso il 30 aprile dell'82 abbiamo chiesto anche un risarcimento del danno nei confronti chiaramente della famiglia di Rosario di Salvo e concludo depositando con persa conclusionale nota spesa ringrazio i giudici prego signori giudici sono l'avvocato Fabio Lanfranca intervengo nell'interesse di Tiziana di Salvo che appunto era all'epoca appena undicenne al momento dell'omicidio sono ad oggi passati 22 anni da quel 30 aprile dell'82 certamente questa enorme distanza tra il fatto di sangue i fatti di sangue e la celebrazione di un processo a carico degli assassini di Rosario di Salvo e di Piola Torre ha certamente contribuito ad aggravare ulteriormente le sofferenze dei familiari delle vittime se questo è vero è vero altresì però che questo lasso di tempo che è intercorso dal 30 aprile 82 ad oggi ha altresì contribuito a darci un insieme di informazioni e di conoscenze sulla quella che era il funzionamento dell'associazione mafiosa Cosa Nostra in quel preciso momento storico quindi nell'82 quali fossero gli interessi perseguiti da Cosa Nostra in quel preciso momento storico e appunto qual era l'organizzazione come era strutturata l'organizzazione in quel preciso momento storico questo è importante perché oggi ci consente di dare una risposta ai familiari di Rosario di Salvo che noi assistiamo e di poter meglio comprendere le ragioni di questi omicidi e arrivare alla determinazione quindi dell'individuazione delle prove a carico dei responsabili di questi omicidi Piola Torre decide di venire in Sicilia da Roma nell'81 quello è un periodo particolarmente triste per questa città per Palermo sono anni bui diceva la collega che mi ha preceduto ed è vero perché sappiamo che in Cosa Nostra qualche anno prima alla fine del 78 è successo un fatto importante c'è un corso una ristrutturazione dei vertici di Cosa Nostra sappiamo che con la cacciata dei badalamenti alla fine del 78 e l'avvento di Michele Greco quale capo della commissione i corleonesi cominciano ad avere ad assumere un ruolo sempre più importante più rilevante e quindi a dettare quelle che sono le loro la loro visione delle cose e a partire proprio dal 79 comincia quella che poi viene chiamata la strategia stragista di Cosa Nostra con l'omicidio del cronista giornale di Sicilia Mario Francesa nel gennaio del 79 e poi continua questa opera di feroce di lotta alle istituzioni compiuto dai da Cosa Nostra quindi dai corleonesi che ne hanno preso il sopravvento la direzione con l'omicidio di Michele Reina a marzo sempre al 79 a luglio di Boris Giuliano a settembre di Cesare Terranova e poi nell'80 con l'omicidio di Persanti Mattarella nel gennaio dell'80 a maggio con l'omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile ad agosto viene ucciso il procuratore capo di Palermo Gaetano Costa fino ad arrivare poi al 30 aprile dell'82 in cui verranno uccisi appunto Piola Torre e Rosario e Rosario di Salvo Piola Torre l'avete sentito in questo dibattimento dai numerevoli testi la figura di Piola Torre è risultata delineata in maniera chiara da tutti i colleghi compagni di partito che lo hanno ce ne hanno raccontato ce ne hanno illustrato illustrato la figura era un dirigente del PC di grande spessore ed era un grande conoscitore della vita e del funzionamento dell'associazione criminale Cosa Nostra anche perché era stato come ha ricordato il pubblico ministero componente della commissione nazionale antimafia e relatore autore della relazione di minoranza della commissione antimafia del Parlamento ed è morto il presidente e il signore della Corte insieme al suo compagno e collaboratore Rosario di Salvo perché certamente questo è un dato processuale certamente di mafia aveva compreso tanto e evidentemente aveva compreso troppo e aveva dimostrato questo è un dato importante aveva dimostrato di avere la volontà politica di mettere a frutto queste sue conoscenze aveva dimostrato di volere utilizzare queste conoscenze che aveva acquisito studiando per combattere efficacemente Cosa Nostra aveva compreso e vado per flash su questi punti che sono stati ribaditi diverse volte aveva compreso innanzitutto che per mettere in ginocchio Cosa Nostra era fondamentale era importantissimo tagliarle i viveri bisognava intervenire sui patrimoni degli affiliati a Cosa Nostra questo è un dato importantissimo che Piola Torre aveva chiaro la proposta di legge di cui abbiamo tanto sentito parlare in questo procedimento che poi diventerà appunto la legge Rognoni e la Torre è esattamente poi la concretizzazione di questo pensiero di Piola Torre Piola Torre aveva chiaro che bisognava levargli i soldi bisognava levargli i patrimoni agli affiliati a Cosa Nostra tagliarli i viveri e rimettere nel circuito sociale questi beni di cui la mafia si era impossessata aveva compreso Piola Torre che per fare ciò bisognava dare all'istituzione un volto credibile un volto chiaro pulito forte per questo fece pressione sull'allora Presidente del Consiglio Spadolini affinché venisse nominato Prefetto di Palermo il Generale della Chiesa che rappresentava sostanzialmente il volto dello Stato vittorioso nei confronti del terrorismo in quel preciso momento storico per questo motivo Piola Torre si adoperò affinché venisse rimosso il questore di Palermo Giuseppe Nicolini che è affiliato alla P2 e per questo motivo si adoperò per dare un volto credibile perché voleva e capiva che la lotta alla mafia si fa innanzitutto dando un volto pulito e credibile a chi ci rappresenta si era impegnato affinché venisse rimosso dal suo incarico Giuseppe Ipallomeni che era il capo della squadra mobile di Palermo anche esso è affiliato alla P2 questo è il quadro della situazione storica a Palermo dell'82 il capo della squadra mobile era affinato alla P2 il questore era affinato alla P2 i politici di allora abbiamo compreso e saputo chi erano e come operavano a partire da Ciancivino in questo contesto Piola Torre decide di tornare in Sicilia a guidare l'opposizione l'opposizione in Sicilia e queste ragioni di cui ho in realtà accennato sono sicuramente le ragioni che hanno portato alla eliminazione di Piola Torre che era un evidente evidentemente si era esposto in maniera palese come nemico di Cosa Nostra questo non c'è alcun dubbio queste sono le ragioni per le quali ha morto anche Rosario Di Salvo che Rosario Di Salvo come Piola Torre era un militante del PC Rosario Di Salvo era un militante del partito comunista italiano Rosario Di Salvo era una persona che ha deciso di fare politica stando accanto al capo dell'opposizione in Sicilia questo è il modo in cui Rosario Di Salvo ha deciso di realizzare quello in cui credevo le idee in cui credevo ha deciso di farlo condividendo con Piola Torre tutto innanzitutto il suo tempo stava con lui la mattina pomeriggio la sera quando c'era bisogno il sabato la domenica stava con Piola Torre accanto a Piola Torre con Piola Torre ha condiviso tutto comprese le pallottole che li hanno uccisi questo era Rosario Rosario Di Salvo e Rosario Di Salvo ci è stato ricordato da tante persone da tanti testi in questo dibattimento ci è stato ricordato il senatore Pacchi ha detto era un compagno stupendo una persona dolcissima una persona che quando me lo ricordo mi commuovo l'avvocato Calè che è stato che lo ha conosciuto bene perché ha detto che entrambi erano giovani insieme ci ha ricordato che non era Rosario Di Salvo non era l'autista Rosario Di Salvo era prego grazie presidente stavo dicendo riferivo su parlavo di Rosario Di Salvo quello che il test avvocato Calèca ci ha detto di Rosario Di Salvo ne ha dipinto bene bene la figura ci ha detto ogni tanto sento dire che Rosario Di Salvo era l'autista di La Torre questa è una definizione che io non accetto cioè Rosario Di Salvo non era l'autista di La Torre in quel momento Rosario Di Salvo era un compagno che svolgeva la sua attività politica come ausilio a Piola Torre non faceva di mestiere l'autista era il compagno che accudiva a Piola Torre era un impegno politico come tutti gli altri con Di Salvo io avevo un ottimo rapporto dice Calèca perché appunto era giovane ai tempi eravamo tutti e due giovani insieme era uno che aveva una concezione della vita stupenda bellissimo giovane bellissimo bellissimo giovane allegro e spensierato questo era Rosario Di Salvo dalla testimonianza dell'avvocato Calèca un giovane bellissimo allegro e spensierato che aveva deciso di fare politica accanto a Piola Torre accudendo la persona la persona di Piola Torre aggiungo io oltre a essere una persona così allegra spensierata giovane piena di vita era anche sicuramente una persona generosa era una persona coraggiosa perché ha scelto di stare accanto a Piola Torre nonostante forse perfettamente consapevole dei rischi che Piola Torre correbbe questo è processuale ci ha riferito il testo di Calèca che con lui ebbe a parlare dei rischi che correva Piola Torre sapeva perfettamente che Piola Torre era nel mirino di Cosa Nostra e però ha voluto restargli accanto si è armato si è munito di portodarmi di pistola sappiamo che quella pistola ha sparato cinque colpi che purtroppo non sono servite a salvare le loro vite questo era Rosario di Salvo e non c'è dubbio Presidente e signori giudici non c'è dubbio che questo omicidio è un omicidio voluto da Cosa Nostra questo è un dato appunto processuale agli atti di questo dibattimento ci sono le sentenze della Corte Assise di Palermo ormai definitive o sui cosiddetti delitti politici quelle sentenze ci dicono che la commissione di Cosa Nostra quella commissione appunto formatasi alla fine del 78 quella commissione dominata dai corleonesi ha voluto deliberato e ha fatto eseguire questi omicidi questo dicevo è un dato è un dato processuale il pubblico ministero questa è una cosa che devo dire fa onore ha anche parlato del ha anche accennato al fatto che probabilmente oltre a Cosa Nostra questi omicidi sono stati voluti da qualcun altro probabilmente anche da settori istituzionali devianti devo dire che per la verità anche quella stessa sentenza che agli atti definitiva della Corte Assise di Palermo la numero 9 del 95 dopo aver individuato la causale dell'omicidio dell'onorevole Latorre leggo testualmente nel complesso della sua attività politica poiché la stessa veniva a porre concretamente in pericolo e a danneggiare gli interessi dei vertici di Cosa Nostra cui infatti la decisione del delitto deve farsi risalire secondo quanto concretamente affermato dai collaboranti questa stessa sentenza poi a pagina 322 aggiunge che malgrado quanto fin qui affermato non si può tuttavia escludere in via di ipotesi il coinvolgimento di ambienti e di interessi diversi da quelli mafiosi questo devo dire va detto questo va detto perché il dato acclarato è pacifico e che questo è un omicidio sono due omicidi sono stati decisi certamente dalla commissione di Cosa Nostra però rileggendo le carte processuali questo è legittimo sorge legittimamente il dubbio che probabilmente qualche altro soggetto fosse interessato insieme a Cosa Nostra cosa ripeto provata alla deliberazione e alla volontà di eseguire questi omicidi le stesse dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia rese in quest'aula effettivamente in qualche modo questi dubbi li li accentuano dice Marino Mannoia di quello che ho saputo io all'udienza del 20 giugno 2003 è stato eliminato l'onorevole Latorre per il suo impegno politico e per l'eccessività del suo impegno politico poi aggiunge però successivamente la legge sulla confisca dei beni è stata fatta e naturalmente ha seminato il danno che ha seminato fino a tempi recenti si ne vedono le conseguenze ma si vede che c'era qualcosa che non ha funzionato qualcosa che se dovevano fare la legge poco importava ma si doveva fare questa situazione di Piola Torre costi quel che costi io non posso spingermi oltre ci sono cose che purtroppo dice Marino Mannoia appartengono ai misteri d'Italia e ai misteri d'Italia purtroppo alcuni non si possono risolvere e non troverete mai un collaboratore di giustizia chiamiamolo pentito che vi porti completamente a sapere al mille per mille perché certamente vi sono delle situazioni che anche se uno è pentito mai vi dirà io Presidente rileggendo queste indicazioni di Marino Mannoia ho ritenuto che quell'osservazione fatta dal pubblico mistero effettivamente fosse corretta che vuole dire Marino Mannoia perché Marino Mannoia ci dice parlando dell'omicidio la torre parla anche di un mistero d'Italia ci dice è stato commesso da noi è stato commesso da cosa nostra ma io voglio capire perché poi questa legge questa legge ci ha effettivamente danneggiato e continua a danneggiarci perché dice Marino Mannoia se uno è pentito non può spingersi oltre un certo punto io queste dichiarazioni le ho lette come le ha lette appunto il pubblico mistero come le conoscete benissimo voi e chiaramente le ripercorro perché ritengo che bisogna cercare di andare oltre è uno stimolo ovviamente questo anche nei confronti di chi deve come dire indagare cercare di comprendere se effettivamente oltre a cosa nostra ci siano stati altri altri soggetti interessati alla eliminazione dell'onorevole dell'onorevole la torre lo stesso comunello Riccio che ha riferito le dichiarazioni che aveva assunto dal collaboratore Ilardo all'udienza dell'8 ottobre 2003 ha appunto riferito a questa corte che Ilardo gli aveva detto che l'omicidio di Piola Torre era stato eseguito da Cosa Nostra ma che c'era probabilmente anche qualcun altro interessato a che questo omicidio venisse eseguito e lo stesso collaboratore di giustizia testa principale elemento di prova principale in questo procedimento Salvatore Cucuzza nel riferire quelle che sono le confidenze ricevute appunto da Pino Greco Scarpa dice rispondendo a una domanda del presidente dice proprio sì a un certo momento lui si allargò un pochettino e io ho detto va bene effettivamente hai ragione ma che cosa abbiamo fatto con riferimento sempre al fatto che appunto l'omicidio l'hanno compiuto loro l'hanno eseguito loro però non ne riuscivano a poi a comprendere come dire la razio quale fosse la razio io credo che queste sono domande che comunque dobbiamo porci sono domande che non mettono assolutamente in discussione ovviamente quello che a noi interessa in questo procedimento cioè la matrice mafiosa di questi omicidi però se è vero come è vero che Piola Torre ossessivamente ripeteva a se stesso chi e perché ricordate che il test che ha detto ripeteva sempre chi e perché chi e perché con riferimento alla vicenda alla vicenda Sindona alla venuta di Sindona in Sicilia e quindi a tutto quello che ci stava che ci stava dietro ecco mutuando quell'espressione di Piola Torre riferendola a questi fatti di cui ci stiamo occupando non c'è dubbio che sul perché abbiamo un pezzo che dobbiamo riuscire ancora probabilmente a mettere insieme per chiudere per chiudere il cerchio non c'è dubbio invece che sul chi abbiamo tutti gli elementi probatori per poter avere poter dare l'assoluta certezza in ordine appunto all'affermazione della responsabilità penale degli odierni imputati che certamente sono gli autori di quegli omicidi certamente erano quel 30 aprile del 1982 alle nove e mezza in piazza generale dubbio certamente hanno fatto parte del comando di Cosa Nostra che ha eseguito quegli omicidi un'eccezionale fonte di prova l'avete sentito so che il pubblico ministero ha ripercorso in maniera precisa puntuale analitica le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Cucuzza che personalmente partecipò a quegli omicidi personalmente aprì il fuoco su Piola Torre e sul Rosario di Salvo è una fonte di prova eccezionale eccezionale e come dire rilevantissima è ovvio presidente signori giudici che io non ripercorrerò le dichiarazioni di Cucuzza perché rischierei come dire il linciaggio da parte vostra però voglio semplicemente e brevemente come dire citare alcuni dei riscontri che sono tantissimi riscontri estrinfici in particolare alle dichiarazioni rese da Salvatore 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 Cucuzza innanzitutto ve ne sono alcune che sono di particolare importanza rese da altri collaboratori di giustizia che vanno appunto a riscontrare quella che è la narrazione fatta da Cucuzza che ha fatto in Ughiese innanzitutto Francesco Marino Mannoia dico ripeto vado per flash perché già appunto sia il pubblico ministero l'ha fatto ovviamente in maniera completa e analitica e anche la collega che mi ha preceduto Francesco Marino Mannoia colloca a pagina 84 con certezza Cucuzza nel commando del gruppo di fuoco che decise e che operò quella mattina del 30 aprile in piazza generale Tuba dice Francesco Marino Mannoia Cucuzza vi partecipò certamente Brusca pagina 119 ci dice che Cucuzza in quel periodo faceva parte quindi nel 1982 del gruppo di fuoco della commissione di Cosa Nostra ci dice altresì ed è un altro importante riscontro alle dichiarazioni rese dal Cucuzza ci dice altresì che il Cucuzza stava sempre insieme a Pino Greco Scarpa noi sappiamo perché Cucuzza ce l'ha riferito che appunto aveva un rapporto particolarmente intenso e privilegiato con Pino Greco Scarpa nonostante i due fossero di mandamenti mandamenti differenti la stessa cosa ci riferisce anche Calogero Gangi Calogero Gangi colloca Cucuzza nel gruppo di fuoco e lo fa a pagina 6 della trascrizione della sua dell'udienza in cui è stato sentito e indica il ruolo di Lucchese all'interno del gruppo di fuoco della commissione di Cosa Nostra dicendo che Lucchese veniva adoperato in quel periodo preciso quello storico un preciso momento storico come conduttore di motociclette in quanto particolarmente abbine nel guidare le motociclette e parla del fondo pipitone mi riferisco sempre alle dichiarazioni di Gangi Gangi ci dice che nell'82 così come ci ha detto Cucuzza il gruppo di fuoco si riuniva a fondo pipitone e da lì partivano per compiere i agguati omicidiati Anselmo Francesco Paolo vado per flash brevissimi Anselmo Francesco Paolo le stesse circostanze riferite agli altri collaboratori di giustizia il rapporto privilegiato a pagina 63 tra Cucuzza e Greco e Pino Greco erano sempre insieme dice Anselmo Francesco Paolo il ruolo di Lucchese veniva utilizzato nel gruppo di fuoco per guidare le moto altra cosa importantissima che riscontra le dichiarazioni del Cucuzza si è nell'indicazione di Anselmo Francesco Paolo il fatto che ci dice che Nino Madonia ricopriva un ruolo importantissimo in questi casi cioè Nino Madonia ci riferisce a Anselmo Francesco Paolo a pagina 75 era quello che organizzava materialmente gli agguati omicidiari insieme a Pino Greco Scanto loro due erano quelli che decidevano come si doveva intervenire e che cosa si doveva fare questa è la stessa cosa che ci dice Cucuzza nel suo racconto Cucuzza ci dice che lui va in macchina con Tanino Carollo poi scende Tanino Carollo dalla macchina e sale Nino Madonia e lui in quel momento da Nino Madonia apprende appunto quello che deve fare qual è il suo ruolo preciso fino a quel momento non sapeva nulla era l'organizzatore che gli spiega che cosa che cosa deve fare la stessa cosa dice Ferrante Ferrante che partecipa alla strage Chinnici ci dice che è stato Nino Madonia a spiegargli come si doveva muovere che tipo di ruolo doveva esercitare che cosa doveva fare non dice dice ad altresì non sapevo io nemmeno chi stava mandando ammazzare sapevo però che Nino Madonia organizzò e mi disse che cosa doveva fare un'altra cosa che riscontra l'edicazione di Cucuzza di Ferrante a mio parere è che Ferrante ci riferisce che loro come gruppo di fuoco utilizzavano un borsone di tipo sub dove tenevano le armi questa è una circostanza che riferisce anche Cucuzza a pagina 35 della traspizione dell'udienza del 14 marzo Cucuzza ci dice io ero armato di un revolver ma noi avevamo sempre dietro una borsa grande in cui tenevamo tutte le armi Kalashnikov bombe a mano eccetera che stava normalmente in una macchina di appoggio quindi sia Ferrante che Cucuzza riferiscono che le modalità con cui venivano compiti gli acquati erano identici entrambi parlano di questa borsa un riscontro Presidente mi avvio alla conclusione di eccezionale portata sono comunque le dichiarazioni di Alfio Silla Alfio Silla non è un collaboratore di giustizia Alfio Silla non ha nulla di cui pentirsi Alfio Silla è un ragazzo era un ragazzo a quell'epoca che serviva allo Stato faceva il servizio militare ed è testimone oculare ed è un testimone oculare di quegli omicili Alfio Silla ci racconta le cose che Cucuzza ci ha raccontato per averle vissute in prima persona ce le racconta esattamente così come ce le ha raccontato il Cucuzza è un riscontro importantissimo ci dice Alfio Silla che percepisce due armi che spara e abbiamo una perizia balistica che ce lo conferma che hanno sparato due armi così come ce lo dice ovviamente Cucuzza lui dice di aver sparato col revolver l'altro Pino Greco con la mitraglietta Thompson ci dice che la mitraglietta Thompson di Pino Greco Scarpa si inceppa e che quindi spara a colpo singolo il Alfio Silla ci dice testualmente vi stavo una persona che impugnava un'arma credo fosse una mitraglietta e sparava a colpo singolo Alfio Silla la stessa identica cosa che riferisce che riferisce Cucuzza così come riscontra Cucuzza in maniera come dire importantissima secondo me quando ci dice di avere visto che la persona che stava seduta nel lato passeggero comincia a scalciare con i piedi dal finestrino va bene cioè io vedevo questi piedi che uscirono dal finestrino che scalciavano è la stessa cosa che ci ha detto Cucuzza Cucuzza ci ha detto io sparo un colpo solo al passeggero poi tutto il resto lo sparo alla parte del guidatore perché ci fu un ritardo di entrata in azione di Greco Pino questa mitraglietta non gli funzionò bene di fatto lui poi cominciò a sparare a colpo singolo perché poi è stato lui che ha finito il passeggero ricordo la scena perché poi il passeggero si è messo proprio con i piedi verso il finestrino quasi a scalciare lui gli sparava colpo su colpo questa è la stessa cosa che ha raccontato Alfio Silla che ha visto con i suoi occhi quindi ritengo Presidente e Signore della Corte che ci siano tutti gli elementi per poter affermare la responsabilità penale degli odierni imputati e condannarli quindi alle pene di legge quindi mi avvio a concludere depositando la comparsa e la nota spesso Prego Avvocato Barcellona Avvocato Barcellona nell'interesse e quale difensore della parte civile signora Rosa Casano Signor Presidente e signori della Corte io non vi nascondo che ho qualche difficoltà nel trovare gli argomenti di discussione anche perché non voglio essere ripetitivo e credo che bene o male gli argomenti sono stati più che esaurientemente già di tutti i trattati avete assistito alla requisitoria dell'ottimo dottor Di Matteo che è stata più che esauriente sotto il profilo della responsabilità penale avete sentito i colleghi che mi hanno preceduto sotto il profilo strettamente risarcitorio e sentirete il collega amato che mi che seguirà e concluderà questi interventi di parte civile quindi ripeto non voglio essere ripetitivo ma neanche concludere formalmente e allora consentitemi di fare qualche brevissima considerazione che posso trarre da quella che è stata più o meno direttamente la mia esperienza personale in questo processo voi avete avuto tracciata la figura di Piola Torre quale uomo politico di grande spessore avete avuto raccontato il suo impegno in battaglie di grande rilevanza politica e storica io vorrei allora spendere due parole su un aspetto diverso un aspetto che appunto ripeto deriva anche da quella che è stata una mia esperienza personale perché io come il collega Fausto Amato attraverso i nostri genitori abbiamo vissuto quegli anni di grande impegno politico di quelle persone che formavano il partito comunista a Palermo noi siamo cresciuti in mezzo a persone come i nostri genitori come solo per citarne alcuni che anche voi conoscete Gianni Parisi Nino Mannino San Filippo Piola Torre e tanti altri ora quelle erano persone sicuramente legate sì da un grande impegno politico ma anche da valori che trascendevano questo impegno politico valori che li accomunavano anche nella vita privata io ricordo infatti tantissime occasioni trascorse insieme con queste persone festività ricorrenze anche fine settimana cene riunioni familiari molte dei quali c'era anche Piola Torre queste persone erano legate da un rapporto che sicuramente era un rapporto che derivava dal loro impegno politico dall'amicizia ma era un rapporto che aveva una particolare connotazione che aveva anche la sua origine dal fatto di essere compagni l'essere compagni allora era un valore importantissimo e denso di significati un valore che trascendeva il solo impegno politico era un valore che non può oggi essere letto con gli occhi della politica a cui assistiamo in questi tempi era un valore che accomunava e avvicinava persone anche molto diverse tra loro che accomunava il libero professionista il professore universitario con l'operaio con il contadino il plurilaureato con chi aveva solo la quinta elementare era un valore che oggi credo si sia perso ma che allora portava quelle persone a condividere la propria esistenza e li stimolava a portare avanti idee battaglie a correre dei rischi anche dei grossi rischi forti della solidarietà e del calore dei compagni ed è quindi alla luce proprio di questo valore dell'essere compagni che deve essere letto il rapporto che legava Dio la torre a Rosario di Salvo io infatti condivido pienamente la fermezza con cui sia Nino Calega sia altri hanno rifiutato la definizione di autista di la torre troppo spesso data a Rosario di Salvo infatti Piola Torre e Rosario di Salvo erano innanzitutto compagni e questa è una definizione pregna di altissimi significati e questo rapporto questa condivisione che li legava infatti si è parlato a lungo dell'impegno politico di Piola Torre in Sicilia delle sue battaglie e dei suoi risultati a questi credo che debba riconoscersi anche il contributo importante dato dal compagno Rosario di Salvo contributo materiale sì ma anche e soprattutto contributo umano infatti al di là del danno subito dalla loro soppressione dal partito dalle istituzioni dalle rispettive famiglie il barbaro omicidio di Piola Torre e Rosario di Salvo ha regato un danno incommensurabile sotto il profilo umano a tutti i loro compagni e più in generale all'intera società civile io infatti ricordo allora avevo 18 anni ricordo il dolore e lo sgomento provato da queste persone che vi ho poc'anzi citato da mio padre stesso che è stato sul luogo del delitto subito dopo appunto all'omicidio e ricordo comunque l'impressione che avevo avuto proprio dalla posizione in cui era stato trovato Viola Torre che tentava di difendersi scalciando e questo dolore e sgomento l'ho rivissuto di recente quando ho riparlato proprio con mio padre ed è un dolore veramente forte che hanno provato le persone che hanno condiviso non solo l'impegno politico ma anche la propria la propria vita la propria esistenza con Viola Torre ed era un dolore il dolore per la morte di entrambi per la perdita di due compagni perdita che ha causato un danno che sotto questo aspetto non potrà mai essere quantificato attraverso i freddi parametri valutativi che ci offre la legge e che probabilmente oggi difficilmente potrebbe essere compreso appieno da chi non ha vissuto in prima persona quegli anni quei rapporti quei valori quelle erano persone che hanno svolto un'attività politica rischiando veramente persone che sono state incarcerate Violatorre è stato in carcere mio padre stesso è stato pure in carcere arrestato perché sopillava gli operi del cantiere navale però per fortuna aveva un fratello giudice di questo tribunale stato scarcerato subito persone a cui sparavano addosso durante le manifestazioni persone che scappavano da casa per sfuggire agli uomini di scelva era sicuramente un altro modo di fare politica che ora credo che non esista più quindi tralasciando ora la posizione di La Torre che sarà compiutamente esaminata dal collega Amato io posso affermare con certezza che la soppressione di Rosario di Salvo non ha provocato soltanto un enorme danno alla propria famiglia deprivata improvvisamente sì dell'unica fonte di sostentamento ma soprattutto di una gran persona di un bellissimo giovane come l'ha definito Nino Calega ma questa soppressione ha provocato un grande danno a tutti i compagni e amici con i quali Rosario di Salvo condivideva idee valori e impegno politico ed è per questo che chiedo che voglia l'eccellentissima corte affermata la responsabilità penale degli imputati condannarli alle spese di giustizia e al risarcimento dei danni tutti morali materiali e al risarcimento anche delle spese sostenute per la costruzione dei participi deposito comparsa conclusionale nota spesa prego sono l'avvocato militeri per la provincia di Palermo signor Presidente signori della Corte e avvocati innanzitutto mi scuso perché io non sono un penalista sono un avvocato giusto fare quindi non mi affamiliare alla ringa posso solo tentare di parlarvi è stata una scelta della provincia di Palermo quella di presentarsi nei processi in cui è parte civile con la propria faccia attraverso la faccia dei suoi interni quindi è una scelta mi dispiace tediarvi cercherò di fare del mio meglio non ripercorrerò quello che avete vissuto attraverso questo processo meglio di me l'ha stato il PM certamente posso associarmi a lui sentendomene onorata delle figure delle due vittime vi hanno parlato gli altri avvocati ve ne parleranno ancora e lo faranno tutti meglio di me io vorrei parlarvi di una virgola della posizione della istituzione in questa situazione quando muore un uomo è immediato percepire il danno che ne ricevono i suoi familiari la moglie i figli i genitori non è altrettanto immediato percepire il danno che la società l'istituzione ne riceve a parte il fatto che ogni vita è legata a tutte le altre e ogni attività è concatenata alle altre tutte insieme formano una comunità e un'economia e quindi sottrarre un solo anello è un danno a parte questo che è comunque generico andando nella situazione specifica in questo caso ci sono stati tanti troppi omicidi etichettati come politici nessuno lo è stato come quello di Piola Torre e di Rosario Di Salvo perché quello che si è voluto colpire in quell'occasione qualunque fosse il rimovente preciso accettando tutte le varie possibilità sia quello di fermare l'uomo che parlava troppo e che quindi dava fastidio sia quello di fare un favore a una classe politica purtroppo sporca perché c'erano anche di quelli in quel periodo fosse quello di fermare una legge che veniva vissuta come una minaccia salvare dei patrimoni che erano sporchi ma comunque erano patrimoni e quindi interessavano a chi le deteneva qualunque possa il rimovente è un omicidio politico perché si è voluto colpire una classe politica si è voluto gridare contro quei pochi che credevano in una politica tracciata nella solarità della legalità una politica che fosse servizio una politica che fosse insegnare i diritti dire a queste persone fatevi indietro non vi mischiate statevi zitti e occidento di salvo e la torre in quella maniera plateale in una strada qualunque in una giornata qualunque praticamente hanno voluto dire chiaramente a chi c'era e a chi doveva venire anche ai ragazzi che intraprendevano quelle strade perché i sogni dei ragazzi portano a quelle strade dicevano non la percorrete qui si muore per quello che riguarda la mia esperienza in quei tempi io ero già dentro la provincia partecipavo ai consigli notturni quindi alla vita politica della provincia l'opposizione e la maggioranza nei loro dibattiti avevano uno stile dopo l'omicidio di Pio La Torre ci fu un momento di freno e gli appalti che venivano in consiglio portavano i nomi che la Torre aveva denunciato prima di morire erano sempre gli stessi chi li voleva favorire pur in maniera pulita faceva un passo indietro per non passare da colluso quei mafiosi chi invece li voleva ostacolare ne faceva due indietro perché aveva paura di morire perché se la Torre di Salvo sono stati eroi hanno accettato la loro sorte pur prevedendola non siamo tutti eroi siamo piccoli uomini piccoli uomini affezionati alla nostra vita piccoli uomini che hanno grandi amori i figli i coniugi e riteniamo che vivere sia proteggere le loro vite e quindi preferiamo fare un passo indietro e facendo passi indietro quelli che faceva il consiglio la classe politica quelli che facevano negli uffici funzionari che quelle pratiche avevano in mano le strade rimanevano con le buche le macchine finivano dentro le buche la provincia pagava risarcimento le scuole rimanevano in locali che non erano adatti ad ospitare scuole il diritto allo studio veniva sacrificato danni ne possiamo elencare un'infinità e sono tutte conseguenze di quel momento di quella situazione di quella paura per questo la provincia è qui c'è in ogni processo di mafia perché è un modo di dire che l'istituzione non vuole non vuole essere collegata alla mafia è qui per dire no c'è in questo processo perché questa situazione l'ha vissuta personalmente possiamo elencare i danni materiali certamente c'è un danno di immagine perché in quell'epoca di oscurità politica chi si fidava delle istituzioni valevano di più le leggi delle famiglie nessuno aveva fiducia nella provincia nella regione nello stato l'immagine era sotto le scarpe e c'è anche un altro danno che dobbiamo un po' mutuare dal diritto delle persone ma è persona anche un cumulo di persone quello che si chiama il diritto esistenziale anche la paura è un danno anche il nonessere è un danno anche il dolore è un danno e queste cose pur essendo istituzione la provincia le ha vissute per questo vi chiediamo che nel momento in cui deciderete subordinatamente alla condanna degli imputati possiate aggiungere alla condanna quella che riguarda il risarcimento per le parti civili che a questo processo hanno partecipato per quel che riguarda la condanna noi ci associamo ovviamente a quello che ha richiesto il pubblico ministero depositiamo le conclusioni scritte e la nota spessa e scusatemi signori giudici della Corte Faustamato prendo la parola per concludere per per i democratici di sinistra sia in quanto partita a livello nazionale sia in quanto unione regionale preliminarmente una spiegazione su questo e cosa chiaramente competa a me dovere fare è contenuta in maniera dettagliata e analitica all'interno delle comparsa conclusionali ma mi sembra giusto anche spiegarlo alla Corte si è deciso di costituirsi in questo procedimento sia per quanto riguarda il partito a livello nazionale sia per quanto riguarda il vecchio comitato regionale del PC poi trasformato in PDS poi in democratici di sinistra perché oggi come allora le due entità anche da un punto di vista organizzativo patrimoniale della legale rappresentanza e quindi come centro di interessi vero e proprio sono distinte ed autonome di questo potete avere contezza verificando le previsioni degli statuti degli statuti del vecchio partito comunista quello uscito fuori dal quindicesimo congresso nazionale del PC nonché l'ultimo statuto invece che regola la vita dei democraziani di sinistra che è quello uscito dal congresso di Pesero sono atti pubblici sono atti noti nel senso che anzi notori se vogliamo utilizzare una terminologia giuridica io per mera comodità della corte li posso anche mettere a disposizione ma sono atti sui quali non c'è nessuna necessità di fornire una prova documentale perché sono atti notori proprio perché atti ufficiali e atti pubblici dalle norme degli statuti si evince con chiarezza appunto l'autonomia giuridica delle due parti che qui rappresento che giustifica quindi una diversità di imputazione del danno e quindi due diverse richieste due distinte autonome richieste risarcitori d'altra parte avrete notato che nelle domande che ho posto spesso e volentieri il punto focale era riuscire a individuare se la torre contemporaneamente rivestisse le due le due cariche cioè quella di essere un componente di primissimo livello della direzione nazionale del partito e quindi del centro del partito e se contemporaneamente fosse un dirigente regionale cosa alla quale tutti i testi sentiti hanno risposto in maniera positiva chiarito questo che è un aspetto proprio attenente alle due parti che qui rappresento vi dico intanto ringrazio i colleghi che hanno scelto a cui ho chiesto di partecipare con me al collegio di difesa che è stato sempre visto in maniera unitaria per quanto riguardava il partito e i familiari stessi rispetto alla mancata costituzione dei familiari dell'onorevole la torre vi dico che è stata determinata esclusivamente da un problema legato al fatto che sono tutti residenti non qui a Palermo ma da diverso tempo da anni sono trasferiti fuori non siamo riusciti proprio per qualche giorno ad avere materialmente le procure si sta facendo comunque l'azione civile in sede civile nei confronti degli stessi imputati questo mi sembra doveroso dirlo perché uno si può anche porre il problema come mai i familiari di viola torre non sono presenti in questo processo la spiegazione è questa qua chiarito questo aspetto dato per scontato che il quadro probatorio che emerge ritengo che sia mi consenta con sicurezza di affermare la responsabilità di entrambi gli imputati tutto quello che il pubblico ministero è riuscito a mettere accanto insieme con coerenza con logica con forza rispetto alle figure dei due imputati al ruolo che hanno avuto credo che superi tutti i rigorosi criteri che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato fermo restando che il nostro codice lascia il giudice e per giudice si intende tutti voi libero di valutare le prove e che i criteri con cui le stesse vanno valutate spesso sono mutevoli nella stessa giurisprudenza quello che conta alla fine è che in maniera logica e coerente si riesca a ricostruire un quadro i giudici vi spiegheranno nel dettaglio che cos'è l'articolo 192 come si riscontra la chiamata in coerità che valore hanno per esempio le chiamate in reità del relato penso per esempio a quella di Marino Manno che ha preso da terze persone in carcere del nomi dei partecipanti degli esecutori sono tutte questioni molto delicate da un punto di vista della ricostruzione proprio giurisprudenziale alla fine quello che è importante che abbiate chiaro comunque è che bisogna trovarsi di fronte delle prove che logicamente unite tra di loro diano una spiegazione convincente sulla ripostruzione del fatto e sulla partecipazione personale dei due imputati e io credo che su questo ed è l'unica parte che mi sento di ribadire e di ripetere credo che il racconto di Cucuz e richiamo qui tutte le cose che ha detto il pubblico ministero sulla sua attendibilità sui momenti della sua collaborazione sul fatto che restasse a lui pochissimo da scontare e che facendo quelle dichiarazioni si trovava si apriva per lui una prospettiva che poi si è concretizzata in quella sentenza di condanna che ha subito a dodici anni per la partecipazione da lui confessata per primo a questo omicidio quindi data per scontata l'attendibilità soggettiva del dichiarante abbiamo poi una serie di riscontri oggettivi e primo tra tutti quello che citava poco fa l'avvocato Lanfranca che è il racconto testimoniale del di quel giovane militare che nell'immediatezza dei fatti subito racconta le cose così come lui le aveva percepite come poi lei ribadirà qui con maggiore chiarezza il dibattimento il dibattimento non è stato assolutamente inutile il dibattimento era giusto che si celebrasse ha scelto bene il giudice dell'udienza primiare a fare celebrare questo dibattimento perché effettivamente oggi come diceva il dottore Di Matteo rispetto al momento iniziale grazie alle testimonianze che sono state acquisite abbiamo fatto un passo in avanti e riusciamo a dire con certezza che quella mattina insieme a Cupuzza c'erano Nino Madonia e Giuseppe Lucchese la loro storia vi è stata ripercorsa avete le sentenze che ne deliniano i precedenti l'inserimento l'importanza i ruoli avuti non c'è credo veramente da immorare come si dice col linguaggio avvocatesco su queste cose qua io ho partecipato per esempio al dibattimento relativo alla strage di Bia Croce e Rossa le modalità sono identiche sono spaccate l'omicidio di Nini Cassara e di Roberto Antiochia avviene nella stessa identica maniera si parte da Fondo Pipitone di Nino Madonia e l'organizzatore di tutto quanto si mette in moto una macchina infernale infernale già in questo procedimento qua abbiamo la contezza che almeno sei o sette persone vengono indicate nominativamente ci sono altri che non vengono indicati nella strage di Bia Croce e Rossa parliamo di più di 25 persone cioè si pose inferno tutti che partivano da lì il ruolo di Galatolo quello che era Fondo Pipitone il ruolo di Nino Madonia tutte cose che si ripercorrono con le sentenze che sono state acquisite e che danno il quadro di un modo di operare dell'importanza di questi due imputati nell'esecuzione dei delitti più importanti di Cosa Nostra quindi rispetto a quanto dovrete valutare in merito alla responsabilità personale dei due credo che il quadro sia sufficientemente chiaro e univoco nell'indirizzare verso l'affermazione di responsabilità dei due imputati quello che mi sento di fare mi si è considerato proprio come riflessione non qua come rappresentante seppure legale di un partito ma veramente da cittadino io ho l'impressione che il suo periodo ci proietti veramente in un altro mondo cioè quando si vede ricostruire l'attività politica di un uomo come la torre per quello che è stato detto dai testi senza bisogno di andare a ricordi personali che purtroppo però è vero ci sono e che comunque creano vi devo dire una certa partecipazione ma restando freddi e distaccati rispetto ai dati emersi dal punto di vista processuale obiettivamente questo processo ci apre una finestra sul mondo che probabilmente è scomparso cioè la dimensione vera della politica come scelta di vita come scelta di vita radicale io credo che non a caso un uomo come Pio La Torre si sia trovato accanto per anni ad uno come Giorgia Mendola che è proprio un libro scrisse dandogli questo titolo una scelta una scelta di vita la politica come scelta di vita per anni La Torre lavorò insieme ad Amendola ne abbiamo sentito nella testimonianza del senatore Macaluso alla commissione nazionale agraria e quella meridionale la vicinanza già con un uomo di quella statura morale è il figlio di Giovanni Amendola c'è del senatore picchiato a Montecatini e poi per le lesioni lì subite ucciso dai fascisti la dimensione umana di un uomo come Amendola io immagino un uomo di una durezza di una forza d'animo uno dei padri della nostra democrazia né più né meno che questo immaginate che idealmente vedere accanto due uomini come questi come Amendola e come La Torre immaginate la ricchezza umana che c'era all'epoca all'interno del mondo della politica io dico qua proprio mi voglio spogliare assolutamente dalle vesti di difensore di un partito politico ma dico da cittadino da chi guarda alla democrazia e al suo imberarsi tramite la partecipazione delle persone il livello era altissimo livello umano morale sono solo alcuni delle cose che sono venute fuori qua a dibattimento 18 anni 18 mesi scusate un anno e mezzo in carcere a quest'uomo il portatarni non fu dato a Piola Torre non lo poteva avere aveva un precedente di 18 mesi di condanna per l'occolazione delle terre quella che voi sapete si fa in Sicilia alla fine degli anni 40 tra l'altro era pure mancino Piola Torre non aveva nessuna consuetudine con le armi quindi un uomo che nel suo fare politica accetta questo cioè accetta già giovanissimo veniva ricordato poco fa da Monica Genovese il suo allontanamento da casa il suo allontanamento da casa mi è deciso dal padre che lo butta fuori materialmente dicendo gli o chiudi o il partito comunista o te ne vai e Piola Torre da 22 anni se ne andò se ne andò e se ne andò a stare a casa di quello che poi sarebbe diventato suo suocero il dottore Zacco il padre di Giuseppina Zacco la Torre anche le donne eccezionale Rosario di Salvo l'avete sentito c'è una testimonianza lavoravano dalle 8 di mattina alle 2 di notte e non c'era il fine settimana come lo intendiamo noi cioè non c'era il sabato la domenica l'avete sentito pure questo testimoniato la domenica si faceva la riunione nei quartieri nelle sezioni questa è una dimensione della politica che oggi è scomparsa è un impoverimento vero per la nostra democrazia questa è la cosa che qui mi preme sottolineare come dato che viene fuori da da questa storia che abbiamo ripercorso tramite i racconti di diversi e autorevolissimi esponenti politici penso alla testimonianza dell'onorevole Ragnone l'attuale presidente del Consiglio della Magistratura del senatore Macaluso e via via degli altri che hanno testimoniato un altro parlamentare Mimmi Bacchi Gianni Parisi un onorevole che a livello regionale ha svolto un importantissimo ruolo Elio Sanfilippo Nino Calega tutti quelli che avete sentito in questo dibattimento e quello che viene fuori da questa storia è una una partecipazione tramite i partiti politici proprio popolare popolare alla vita politica pensiamo al milione di firme che avete sentito qua che sono state raccolti per la questione della base militare di Comiso pensate appunto alle sezioni che nella logica di La Torre ma non era la logica di La Torre qui veramente sarebbe riduttivo dire era la logica di La Torre nella logica di un partito di massa qual era il PC qual era anche la democrazia cristiana le sezioni erano come delle antenne aperte sulla realtà da lì si capiva quello che succedeva vi è stato detto esplicitamente che le sezioni di partito non erano i luoghi dove si creavano i presupposti per raccogliere i voti tutt'altro c'erano dei gruppi dirigenti Calega lo dice espressamente dove c'erano i gruppi dirigenti più svegli più attenti da lì La Torre pure assumeva notizie su quello che succedeva nei quartieri quindi c'era una dimensione partecipata popolare in cui La Torre si trova all'interno di un meccanismo che vede una grande partecipazione popolare e la stessa elezione di La Torre a segretario regionale ricorderete perfettamente come viene da tutti descritta con un momento di grande consultazione la presenza di Giorgio Napolitano che tutti sapete che ruolo ha avuto anche a livello istituzionale poi è stato non a caso ministro dell'interno di questa Repubblica la partecipazione appunto democratica anche alla vita del partito e le ampie consultazioni che poi porteranno la Torre a fare il segretario regionale di nuovo per la seconda volta a distanza di anni e quello che viene pure fuori con forza è il legame forte della politica con con la società e col corpo elettorale cioè pensate della Torre viene qua di nuovo a fare il segretario regionale perché si erano persi 15.000 voti alle ultime elezioni regionali cioè quelle che oggi sono inezie all'epoca erano cose da mobilitare un comitato centrale di un partito e decidere di inviare uno dei suoi uomini di punta di maggiore esperienza e di maggiore forza per venire a fare il segretario regionale del partito e prima ancora ricorderete pure di quelle altre testimonianze che dicono del fatto che la Torre ne parla Gianni Parisi dopo la sconfitta elettorale del 67 da segretario regionale torna a fare il segretario provinciale del partito questo dà la dimensione di che contatto ci fosse tra la vita interna del partito e quello che la società riusciva esprimere ma ancora più forte quello che viene fuori e che veramente secondo me è impressionante è il legame fortissimo con la realtà cioè la capacità proprio di leggere in tempo reale gli eventi cioè quello che di la Torre stupisce e che poi dà senso del danno della perdita che abbiamo subito tutti bellissime poi saranno le parole per il rileggero di Virginio Rognoni su questo punto dette nell'udienza che abbiamo fatto a Roma la capacità di lettura della realtà che aveva un uomo come la Torre cioè la capacità di leggere gli accadimenti la venuta di Sindone in Sicilia per lui è un fatto su cui riflettere l'apertura degli sportelli bancari nel Trapanese è un altro motivo di riflessione cioè l'attenzione all'intreccio che c'è tra politica e malaffare le aggiudicazioni per esempio che in un certo periodo storico i cavalieri del lavoro di Catania iniziano ad avere su Palermo e c'è tutta una riflessione su quello che questo significa sul fatto che probabilmente a Monte c'è un rapporto diretto tra organizzazioni criminali ma c'è uno scambio con la politica e quindi l'intelligenza di capire queste cose e soprattutto la forza di riuscire forse si è bloccato eh però dovremmo averla questa conferma beh possiamo interrompere se l'avvocato consente qualche minuto giusto per avere se ecco perché vedo che grazie per aver avvocato amato sì grazie presidente dicevo appunto come il processo ci abbia aperto una finestra sul mondo oggi probabilmente come forte legame con la realtà col corpo elettorale con la complessità delle della vita sociale economica anche della nostra isola in particolare visto che è qui che l'omicidio matura e trae origine penso anche proprio alla capacità di lettura che quest'uomo aveva che la torre aveva di leggere la complessità penso per esempio lo faccio solo per riflessio presidente chiaramente alla quanta attenzione c'era anche a guardare all'interno dell'altro grande partito storico che era la democrazia cristiana quanto quel dibattito con Nicoletti che è stato qui pure evocato a Monreale organizzato da padre fasulo in cui la torre distingue all'interno di quello che era l'avversario politico all'epoca la democrazia cristiana dicendo come che noi siamo riusciti a fare pulizia al nostro interno e il riferimento era che ha fatto internazionale era Stalin e voi non riuscite a liberarvi di un uomo come come Ciancimino e poi la capacità in relazione a questa sensibilità a questa capacità anche di programmare interventi a lungo periodo è chiaro che l'idea della legge che sicuramente non si può dire essere solo frutto dell'impegno dell'elaborazione di Piola Torre che si è stato detto in maniera chiara e risulta chiarissimo che per esempio lo stesso povero Cesare Terranova partecipa prima chiaramente alla successione all'elaborazione di questa idea così come altri come Aldorrizzo per esempio che è stato pure qui rievocato la creazione di un coordinamento tra i prefetti e tra le istituzioni per riuscire a dare maggiore forza alla lotta alla mafia anche lì di un'idea che guarda a lungo termine non era una cosa dell'indomani la creazione di un commissario antimafia che vi ricorderete voi tranquillamente non c'è bisogno che io ve lo ripeta perché è storia che tutti conosciamo quante polemiche quanti dissidi ci siano state intorno alla creazione di un commissario che coordinasse la lotta alla mafia ma anche il progetto di legge sugli appalti pubblici in Sicilia prefigurare una nuova normativa visto che gli appalti era pacifico che fossero un luogo un momento in cui si incrociavano mafia e politica di un certo tipo la battaglia che qua è stata pure ricordata contro l'applicazione della legge nazionale che aumentava gli agi alle sattorie che voi ricorderete che all'epoca essere oggetto di dominio incontrastato da parte dei cugini salvo quindi emerge già da queste sole quattro cose una capacità di proiezione di progettazione di proiezione nel futuro dell'intervento ed è qui la pericolosità di la torre per la mafia il PM utilizzando un'espressione bella ha detto era il nemico numero uno di cosa nostra io credo che sicuramente da un punto di vista politico questo sia vero nei termini in cui la sua attività politica qui è stata ricostruita ed è poi testimoniata da chi gli è stato accanto ma anche da chi ha vissuto quel periodo e poi gli interventi politici immediati cioè una capacità prospettica ma anche una capacità di risolvere il contingente poi è stato ricordato quello che significava a Palermo avere due esponenti di quella loggia sulla quale tutti sapete bene che si fece una commissione parlamentare di inchiesta che ha certo la natura deviata di quella loggia massonica la capacità di infiltrazione all'interno dei gangli dello Stato e la capacità di condizionamento quella commissione parlamentare fece un lavoro eccezionale che fece venire fuori quanto di marcio c'era all'interno di quella loggia ideata pensata e diretta da Licio Gelli e poi l'intervento su Spadolini per esempio per avere un uomo del livello di dalla Chiesa a Palermo come prefetto le interpellanze per far esaltare l'appalto dei congressi che è stata pure ricordata qui anche la giudicazione chi si era giudicato l'appalto che cosa si fece la battaglia parlamentare che si fece all'interno dell'assemblea regionale per evitare come si riuscì ad evitare che quell'appalto venisse finanziato non si intervenne sulla giudicazione quella c'era stata ma sul finanziamento si riuscì a bloccare quell'operazione ma quello che emerge anche credo che non sia da sottovalutare ed è questo che dà anche la percezione di quanto guardiamo a un mondo lontano è il rispetto profondo per le istituzioni il rispetto vero c'è quel pezzo della testimonianza di Mimì Bacchi che io vi invito a rileggere in cui si parla della visita delle due visite fatte dalla torre a casa di Chimici e quello che riferisce Bacchi è della raccomandazione che gli fa Piola Torre che pure era uno che aveva consuetudine a lavorare con magistrati a stare accanto a loro gli disse mi raccomando non parliamo di politica cioè nei confronti di un magistrato lui aveva questo tipo di sensibilità io credo che oggi non ci voglia molto a dire che questo rapporto tra politica e magistratura sia drasticamente tragicamente incrinato e credo che di questo veramente la nostra democrazia soffra quindi nessuna nostalgia per quegli anni però io credo che con questo processo guardiamo ad un mondo in cui la vita democratica probabilmente era più ricca detto questo l'importanza veniamo all'importanza di questo processo seppure un processo che riguarda due esecutori materiali intanto come è stato qua giustamente ricordato il processo si inserisce in un contesto preciso cioè sta all'interno di una scia di sangue mostruosa di anni di fuoco tutti ne abbiamo memoria in cui la mafia riesce nel giro di brevissimo tempo a colpire i massimi livelli istituzionali cioè non c'è stata regione italiana ma io credo che non ci sia stata regione in occidente in cui contemporaneamente nel giro di poco tempo viene ucciso il presidente della regione il capo dell'opposizione il prefetto il capo della squadra mobile è una scia di sangue impressionante i magistrati che sono caduti Terra Nova il procuratore della Repubblica viene ucciso l'equivalente di oggi di Piero Grasso dell'epoca la verità non fosse era questo cioè l'attacco della mafia è mostruoso per questi motivi perché non è un attacco isolato a singole personalità o a singole figure no è un attacco vero allo Stato cioè a tutti quelli che rappresentano lo Stato e questa era la forza che si voleva dare con questi omicidi l'elenco ce l'abbiamo chiare tutti poco fa diceva l'avvocato Lanfranca partendo da francese secondo me anche giustamente partendo dall'omicidio di francese ma poi Reina Giuliano tutti gli altri che sono seguiti fino fino a arrivare poi a dopo anche la torre a dalla chiesa e poi c'è proprio l'importanza della vittima che viene scelta al di là di un disegno complessivo che si persegue che vede appunto una scia di sangue che colpisce tutti i vertici dello Stato poi c'è proprio l'importanza della vittima designata e non ce lo scordiamo è un parlamentare nazionale che viene ucciso cioè viene attaccato qua pure quella che è la massima espressione rappresentativa viene ucciso un membro del Parlamento italiano cioè è oggettivamente un delitto che tocca il massimo della rappresentatività nazionale e poi un parlamentare che non era un parlamentare qualunque la Torre era stato parlamentare nel 72 nel 76 nel 79 quindi un parlamentare che aveva un lungo corso che era stato membro della commissione parlamentare antimafia che aveva scritto la relazione di minoranza di quella commissione e vi è stato qua detto bene dal pubblico ministero come in quella relazione con grande capacità grande intelligenza guardate che è una cosa monumentale è una cosa impressionante guardare gli atti di quella commissione è un'enciclopedia vera e propria della mafia fino a quegli anni e lì ci sono nomi e cognomi chiaramente non è uno studio sociologico lì c'è un approfondimento reale e vengono individuati i nomi precisi di esponenti politici che con la mafia si trovano in situazioni di contiguità e che consentiranno alla mafia di avere forza questa è la cosa che è impressionante e mostruosa che contemporaneamente in quel periodo si fronteggiava una parte dello Stato che avversava in maniera radicale si esponeva il rischio per combattere la mafia in una parte che faceva affari una parte che era collusa tragicamente con la mafia e l'importanza della vittima deriva anche dalla storia interna al partito che aveva avuto la torre non era il dirigente dell'ultimo momento l'avete avuto ricostruita qua sin dall'inizio la sua storia personale io mi limito ad alcune notazioni già nel 60 la torre era del 27 già nel 60 si scrive alla fin di cia 18 anni ma già nel 60 è nel comitato centrale del partito comunista italiano che voi dovete immaginare essere qualcosa per l'epoca per come funzionava la vita del partito era l'equivalente del nostro parlamento c'era la massima espressione di democrazia all'interno del partito ed era cosa di estremo prestigio e peso essere all'interno del comitato centrale ma la torre già nel 62 addirittura nella direzione nazionale un organismo molto più ristretto cioè se il comitato centrale era formato da 200 persone nella direzione nazionale c'erano 30 ma vedremo che la torre andando avanti progredendo arriva proprio a stare all'interno degli organismi più ristretti addirittura la segreteria del partito accanto a Enrico Berlinguer e su richiesta di Enrico Berlinguer lui entra nella segreteria del partito sono 6 persone in tutto cioè è il vertice il vertice del partito che viene che viene colpito nel momento in cui sarà assassinato lui sarà tornato a fare parte della direzione nazionale di questo organismo composto da una trentina di persone e tra l'altro uno dei motivi per cui lui sceglierà e chiederà lui stesso nel testimone Macaluso di tornare a fare il segretario regionale del partito era proprio quello di rientrare nella direzione nazionale del partito e poi l'importanza sempre dell'omicidio ce la dice credo con delle parole bellissime Virginio Rognoni quando parla proprio di la torre come memoria storica mi cito solo queste parole perché sono secondo me è il migliore ritratto che quello che era pur sempre l'appartenente ad un partito che era il partito avverso per eccellenza arriva a dire su domanda dell'avvocato genovese dice Rognoni un impoverimento c'è stato perché perché non c'era più l'onorevole la torre l'onorevole la torre era una bandiera e non solo per il suo partito ma per l'intero paese nel contrasto alla mafia e quindi l'assassino di la torre costò costò a questo paese all'italia perché la politica nel suo partito e la politica del paese in generale la politica istituzionale la politica del contrasto alla mafia si privò si vide privata dell'apporto della torre su questo non c'è dubbio una cosa che diceva il pubblico ministero credo che qui abbiano un riscontro autorevolissimo da parte dell'onorevole Rognoni su quello che ha significato la perdita l'uccisione di Pio la torre per questo paese tutto questo chiaramente Presidente io lo dico anche in funzione dimostrativa del danno subito dalla parte che rappresento io così come il pubblico ministero ha voluto affrontare anche dei temi che potevano sembrare difficili non vorrei assolutamente trascurare quella che polemicamente anche all'esterno del processo è stata una questione che si è secondo me in maniera decisamente strumentale agitata tanto è vero che sono solo io il primo a parlarne però ritengo doveroso farlo ed è la questione della cosiddetta tra virgolette pista interna sono il primo a parlarne c'è nessuno qui perché da un punto di vista processuale non esiste nulla che indichi in qualche maniera che questa pseudo tesi possa avere qualunque dignità dimovente dell'omicidio credo che il processo faccia giustizia da questo punto di vista sono io il primo a parlarne nessun altro ne ha parlato perché l'inconsistenza della cosiddetta pista interna che vorrebbe in qualche maniera ricollegare ad ambienti interni al partito l'uccisione di la torre è una cosa che non ha nessunissima dignità è stata distrutta in termini processuali dagli accertamenti doverosi che la magistratura ha fatto ed è oggi relegata al dimenticatorio cioè non c'è nessuna possibilità di aggancio a questa pseudo tesi sul movente anche perché qui sono state spiegate in maniera chiarissima quali sono le ragioni reali della venuta della torre in Sicilia qua non c'è da fare pulizia di niente e di nulla questo è indiscutibile basta rileggere le dichiarazioni di Macaluso di Russo di Bacchi di Parisi di Calega se voi guardate a tutte le dichiarazioni di tutti questi appartenenti all'allora partito comunista italiano e che si trovavano anche loro supposizioni diverse perché non erano assolutamente tutti insieme ne erano tutti con con la torre che faceva parte di una precisa corrente all'interno un'area all'interno del partito comunista che era proprio quella che aveva sul punto di riferimento massimo l'onorevole Amendola e tra i suoi dirigenti più rappresentativi l'onorevole Bufalini l'onorevole Macaluso e qui in Sicilia l'onorevole Russo l'onorevole Bacchi anche la rievocazione che è stata fatta qui seppure per battute per flash di quello che è stato il congresso regionale con cui si sancisce la decisione presa a monte tenete presente che il partito comunista italiano all'epoca aveva un principio suo che vi troverete scolpito in maniera chiara all'interno del suo statuto che era il centralismo democratico c'era un'organizzazione piramidale per cui in quel contesto era ovvio che la nomina del segretario regionale venisse prima discussa e decisa come indicazione chiaramente perché sarà poi quell'ampia consultazione che viene a fare qua Giorgio Napolitano a decretare il via libera all'elezione di La Torre a segretario ma avete chiaro c'è anche quel riferimento che viene fatto all'onorevole Pancazio De Pasquale all'onorevole Colaianni alla rivalità tra virgolette rivalità Calega secondo me riesce in maniera chiara da giovane militante all'epoca del partito a dire cioè noi non pensavamo per noi era estraneo la Torre era un dirigente nazionale era uno che veniva da fuori noi eravamo per un'altra soluzione che era quella di Luigi Colaianni esponente pure lui di primo piano del partito figlio di figura storica del partito comunista suo padre liberò Torino mitra alla mano quindi parliamo di una delle famiglie storiche che hanno fatto che hanno dato onore e lustro a quella compagine politica c'era questa rivalità ma quando prevale la scelta già fatta dai vertici nazionali e l'indicazione di fare la Torre segretario regionale poi c'è una votazione unanime all'interno del comitato regionale solo un senatore il senatore Nicola Cipolla è stato pure qui riferito su questo si astenne si differenziò per il resto ci fu l'unanimità sulla venuta di la Torre a Palermo quindi già questo quadro complessivo vi dà contezza del come sia maturata e perché quali siano state le esigenze prima del partito a livello nazionale personale di la Torre come dirigente politico la necessità sua di rientrare in direzione e la voglia che aveva dopo quella sconfitta elettorale di dare un contributo a quelle che lui già individuava come le due grandi tematiche che poi caratterizzeranno il suo impegno e che secondo me bene vengono distinte nel rapporto reale che avevano l'uno con l'altro l'impegno contro la mafia è insieme a questo l'impegno contro la creazione della base missilistica a Comiso in Sicilia tanto che su questo ricorderete che qualcuno ed è sempre l'avvocato Calega che è un'ottima memoria di queste cose disse che la torre subordinava la lotta alla pace non tanto nella preoccupazione per da un punto di vista internazionale tenete conto di quello che era all'epoca lo scenario internazionale ma la preoccupazione fortissima per gli interessi che è dietro la costruzione di quella base militare all'ex aeroporto Magliocco di Comiso significava ricordate bene pure come è stato qui riferito degli acquisti di terreni fatti dai cugini salvo nel Ragusano le preoccupazioni che in un uomo come la torre che aveva questa grande capacità di lettura di quello che accadeva potevano indurre e poi la preoccupazione che la più grande base missilistica che si andava a costruire creava nella torre chiaramente era per il nuovo per il crearsi tutto intorno di un movimento di spie di soggetti non ben identificati di soggetti che si sapeva avere rapporti anche con settori della criminalità organizzata erano tutta una serie di motivi che prima ancora della scelta di politica internazionale imponevano estrema cautela e determinavano una forte iniziativa contro l'installazione proprio qui in Sicilia di quei missili l'impegno contro la mafia pacificamente è quello che determina la commissione di Cosa Nostra a regolare i conti con questo nemico storico della mafia e i motivi dico il pubblico ministero li ha anche qui elencati è di facile comprensione che già la relazione di minoranza è firmare quella relazione di minoranza è come firmare una propria condanna a morte come fu per altri firmando rapporti giudiziari o scrivendo sentenze per la torre aver messo lì la sua firma probabilmente già lì che crea i presupposti e ancora il progetto di legge che passa in commissione 15 giorni prima in sede referente 15 giorni prima dell'omicidio il cui legame è fortissimo l'interessamento per dalla chiesa come prefetto di Palermo la creazione del commissariato antimafia l'attacco violento che abbiamo sentito espresso in maniera pubblica contro Gioia contro Lima contro Ciancimino cioè contro quei potenti della politica chiaramente accusati di avere un rapporto di scambio con con la mafia e poi l'attacco ai cugini salvo già questo poteva armare cosa nostra la questione dell'appalto per il palazzo dei congressi l'attenzione per gli appalti che si aggiudicavano Costanzo Graci Rendo Finocchiaro qui a Palermo in quel periodo e che era una cosa anomala perché non era mai successo prima che i catanesi riuscissero ad aggiudicarsi appalti qui la costruzione della base di Comiso con questa lettura di legame con gli interessi della mafia gli acquisti dei terreni in Ragusano dei salvo la venuta di Sindona in Sicilia da lui denunziata così pubblicamente e oggetto di grande attenzione e di grande preoccupazione per quello che Sindona significava la rimozione di Nicolicchia tutti fatti che sicuramente possono avere determinato hanno determinato un interesse preciso di cosa nostra nell'esecuzione però e qui concludo Presidente io credo che sia doveroso fermo restando appunto che il procedimento ha che già la commissione di Cosa Nostra è stata giudicata e che i due imputati in questo procedimento sono Corri di Cucuzza nell'esecuzione materiale dello stesso però Presidente io credo che una parte della motivazione non possa non tenere conto anche e non dare atto del vuoto che ancora oggi abbiamo io credo che la sentenza che andrete a scrivere questo tema non può non affrontarlo non può non affrontarlo qualunque sia la decisione che voi piglierete ma vi devo dire francamente che non ho nessun timore che possa essere in qualche maniera scalfito l'impianto accusatorio non si può non tenere conto di quelle cose che lo stesso PM prima vi ha ricordato rispetto alle indicazioni date da Brusca da Cucuzza stesso poco fa riferite dall'avvocato Lanfranca da Ilardo da Marino Mannoia qua abbiamo già quattro indicazioni che ci portano a dire come ha detto correttamente il pubblico ministero che se Cosa Nostra esegue l'omicidio qualcuno al di fuori di Cosa Nostra ha interesse a che più la torre venga ammazzata questo secondo me nella sentenza la scritta a lettere cubitali non è possibile come dice Marino Mannoia che questo resti uno dei misteri di Tato non è possibile tollerare che l'uccisione di un parlamentare di un parlamentare di quel livello di quel calibro di un uomo che come giustamente ha detto Lino De Matteo era il pericolo numero uno per Cosa Nostra o come ha detto Virginia Lognoni era la bandiera ma non del partito comunista ma della politica italiana nella lotta alla mafia su questo restino zone d'ombra su questo sul movente concorrente e sui mandanti concorrente a Cosa Nostra io credo che una parte della motivazione debba fare da sprone a che questa pagina non resti in bianco e che sia chiaro chi realmente ha armato la mano di Cosa Nostra grazie deposito comparsa conclusionale è nota spesso avvocato una cortesia aveva fatto cenno ai due statuti ecco li dovrebbe penso produrre perché forse sono documenti che possono entrare il pubblico ministero esprime parere favorevole sono documenti sono atti notori sì 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 per comodità dico lì va bene li produco a parte oltre la nota spesa allora l'udienza è aggiornata il giorno 10 sempre in quest'aula ore 9.30 e seguenti presente l'udienza successiva è quella del 28 allora giorno 10 è per le conclusioni difensive giorno 28 per eventuali repliche comunicheremo il 10 se l'udienza si terrà al palazzo oppure quella del 16 è saltata salop salop